Pesaro in lutto per la scomparsa di Roberto Biaggiotti Donna trovata senza vita sulla spiaggia di Baia Flaminia Sicurezza stradale, Villa Fastigi chiede i tutor La notte delle candele ispira il Natale di Gabice Mare Si apre il sipario sul 44esimo Rossini Opera Festival Gentilissime telespettatrici, gentilissimi telespettatori Ben ritrovati anche questa sera, giovedì 10 agosto 2023 Per l'edizione di Rossini News Che potete vedere non soltanto sul canale 80 di Rossini TV Ma anche in diretta sulla nostra pagina Facebook E seguirci anche sulla nostra app in streaming App che vi invito a scaricare Partiamo con una notizia luttuosa Che ha scosso oggi la politica pesarese Ad appena 40 anni è infatti venuto a mancare Il consigliere comunale e provinciale Roberto Biaggiotti Vediamo insieme il servizio Pesaro sconvolta e addolorata per la scomparsa Ad appena 40 anni di Roberto Biaggiotti Avvocato e consigliere comunale Da 20 anni impegnato costantemente nella vita pubblica cittadina Biaggiotti è venuto a mancare oggi in seguito a un tumore Che a pochi mesi dalla tremenda diagnosi Lo ha strappato all'affetto dei suoi cari Quelli di una famiglia che Roberto aveva da poco felicemente costruito Con la moglie Cadia e il figlio Nicolo Alberto di appena due anni Roberto ha combattuto con orgoglio e dignità la malattia Alla stregua delle tante battaglie condotte nella sua professione Di avvocato e di politico Attualmente era sia consigliere comunale a Pesaro Che consigliere provinciale Proprio in provincia oggi è stata issata bandiera a mezzasta In segno di lutto Quello di Biaggiotti è un impegno politico Cominciato già nel lontano 2004 Da consigliere di circoscrizione A novilare Candelara con alleanza nazionale Poi l'elezione a consigliere comunale di Pesaro Già nel 2009 Vedendolo militare nelle file del centrodestra Dal PDL alla Lega Fino al passaggio dello scorso anno al gruppo misto Battaglia che ha spesso raccontato Anche ai nostri microfoni di Rossini TV Con passione, abnegazione e coerenza Un dolore che si mescola all'incredulità di tanti pesaresi legati alla politica Che lo avevano sentito telefonicamente anche in settimana Sui social è un florileggio di ricordi dei tanti esponenti di centrodestra Che lo hanno accompagnato in queste battaglie Così come commosso cordoglio è stato espresso Da chi è stato solitamente avversario dall'altra parte della barricata Da Ricci a Vimini Da Paolini a Bellucci La legge, la politica Ma anche gli animali e lo sport Biagiotti è stato anche coordinatore regionale del movimento animalista Aveva una passione viscerale per i cavalli e l'equitazione È stato anche regbista Ed è rimasto costantemente vicino alle sorti della Pesaro Rugby Un luto tremendo per una città scossa dalla perdita di un ragazzo Dall'esistenza mossa sempre da impegno, tenacia e generosità Una donna pesarese è stata trovata senza vita all'alba di questa mattina Sulla spiaggia di Baia Flaminia È stata disposta un'autopsia per accertare le cause del decesso Vediamo il servizio Polizia, 118 e Guardia Costiera Sono intervenuti all'alba di questa mattina A Lido Pavarotti di Baia Flaminia Dove una donna pesarese di età compresa fra i 45 e i 50 anni È stata trovata senza vita sul bagnasciuga All'estremità dell'arenile In prossimità del San Bartolo E della cosiddetta Oasi delle Tartarughe A trovare il cadavere attorno alle 4.30 Alcuni addetti alla pulizia della spiaggia Che hanno subito allertato i soccorsi L'ambulanza intervenuta ha constatato il decesso La polizia ha effettuato i rilievi Identificato la donna, P.P. le sue iniziali E avviato le indagini sulla causa del decesso Sembra remota la possibilità di morte Sopraggiunta in seguito ad atti di violenza Gli inquirenti non escludono il gesto volontario Ma potrebbe trattarsi anche di una morte Riconducibile ad un abuso di farmaci La polizia ha sequestrato la Volkswagen Golf Parcheggiata a Lido Pavarotti A lei riconducibile È stata disposta all'autopsia Per fare chiarezza sulle cause del decesso E sempre questa mattina È stata trovata una donna di 40 anni Senza vita in una casa del centro di Sant'Ippolito Di proprietà di un amico Sono intervenuti i carabinieri di Fano Che hanno interrogato l'uomo Che ospitava la donna in questione Alla base del decesso Non si esclude l'ipotesi del suicidio Lasciamo la cronaca E parliamo dell'Università di Urbino Che grazie alla qualità dei suoi progetti Si è aggiudicato 14 milioni di euro Assegnati dal Bando Edilizia Unitaria 2021-2035 Per la realizzazione di due progetti Finalizzati al recupero o sviluppo Di strutture disponibili per le attività istituzionali Il contributo ottenuto dal Ministero per l'Università e la Ricerca Corrisponde al massimo delle risorse finanziabili L'Ateneo potrà così completare La riqualificazione del campus scientifico Enrico Mattei E la realizzazione delle nuove aule Al primo piano dell'area ex Petriccio Il costo del primo intervento è di 28 milioni Di cui 12 a carico del Ministero Il costo del secondo intervento di 4,2 milioni Di cui 1,8 è a carico del Ministero Torniamo su Pesaro per parlare di viabilità e sicurezza stradale Quella che invoca gran parte dei residenti di Villa Fastigi Ci troviamo in Via Fastigi Una delle strade portanti Della viabilità delle quartiere di Villa Fastigi Strada che però è al centro Di una problematica di traffico crescente E anche di pericolo Si fa portavoce di questo problema Il consigliere comunale Luca Pagnoni di Dario Nonché residente Di Villa Fastigi Che ha raccolto proprio Le rimostranze anche dei residenti in tal senso Sì esatto Come appunto stavi dicendo Ha raccolto le rimostranze di numerosi cittadini Che negli ultimi mesi Lamentano sempre di più Questo senso di insicurezza Sulle strade principali del paese Sia Via Fabreccia Sia Via Fastigi Via Costa Fagnano E Stada Madonna del Monte Questo perché Da quando è stato posizionato il tutoro Sulla Montella Battese Si è registrato un forte aumento di traffico Proprio sulle vie centrali del paese E soprattutto negli orari Sia prima mattinata Che in tarda serata Con un calo del traffico E diventano proprio delle proprie autostrade Un problema che diventa anche una mozione Da presentare in consiglio comunale Al rientro delle ferie Nel mese di settembre Per chiedere cosa? Esattamente Sulla scorta appunto Delle denunce Abbiamo deciso Anche con il consiglio di quartiere Di proporre questa mozione Al fine di richiedere Una sorta di tutor Che possa registrare La velocità Diciamo Di chi entra Appunto in queste vie In entrate e in uscita In maniera tale Che il traffico Si speri che possa La velocità Si speri che possa Redursi Notevolmente E vi ricordiamo L'appuntamento Dell'anno L'appuntamento Con candele Sotto le stelle Che questa sera Illuminerà Non solo Pesaro Ma anche Gabicce Mare E Gradara Che saranno seguite Dalle nostre telecamere Per tre speciali Che potrete gustare In altrettante Prime serate Della prossima settimana Proprio Gabicce Mare Oggi ha presentato Una programmazione turistica Che dalla notte Delle candele Di questa sera Si dilata Fino a Natale Oggi 10 agosto È la notte Di San Lorenzo La notte Di candele Sotto le stelle Che da quattro anni Vede Gabicce Mare Parte integrante Di questa grande Ricorrenza estiva Però Qui al Mississippi Oggi Gabicce Mare Ha fatto capire Che non si Non si lascia nulla Al caso In fatto di programmazione Turistica Si guarda già Fino al Natale Richiamandosi alle stelle Quindi alla notte Delle stelle Che ricade Proprio il 10 agosto L'immagine Del nostro Natale Sarà dedicato alla stella Quindi è seguito Questo percorso Che è iniziato Questo inverno Quando abbiamo presentato L'immagine Dell'estate 2023 Con un faro Che illumina Sia il mare Che il monte Da lì Questo faro Si trasforma Da luce Quindi da luce A una stella La stella Sarà l'icona Che ci guiderà Per le prossime Festività Natalizie È giusto Anche farlo In congruanticio Perché abbiamo Modo anche Di intercettare Più persone Possibili Anche i flussi Turistici Che ci accompagnano Durante l'estate Per presentare Un programma Anche E un'immagine Di quello che saranno Le festività Natalizie Quindi cerchiamo Di avere sempre Una visione Anticipando i tempi Le tempistiche In modo tale Da promuovere Anche l'estate Quello che Gabice può dare Anche l'inverno Candelle sotto le stelle Vede inevitabilmente Il grande coinvolgimento Degli stabilimenti balneari Siamo pronti Per questa sera Per far trascorrere I nostri ospiti Una bella serata E i nostri ospiti Saranno pronti Con tanta musica Divertimento Dress code Ovviamente white La luce delle candelle Di questa sera La luce del faro Che ha contraddistinto La campagna promozionale Di Gabice Maremonte In questi anni E anche la luce Di questa stella del mare Che ci avvicina al Natale Il tutto curato Dall'ora d'amico Esatto Sì Questa volta Abbiamo appunto Voli riunire Un evento Che è quello di San Lorenzo Della notte delle stelle cadenti Appunto con la stella Che identifica il Natale Per fare proprio Congiunzione Tra tutti questi elementi Il faro Appunto Che è stato presentato Nella campagna estiva Conteneva già Questo piccolo elemento Che è la nostra ginestra Che è la nostra stella Che fa parte appunto Del mondo più Diciamo Della natura Quindi del monte Ma che si congiunge Questa volta Con la stella Che per noi è anche La stella del mare E la stella marine Insieme alla stella del monte Intesa come ginestra Si uniscono Per portare luce A tutti i territori Non solo a Gabizia Ma anche quella che sarà Pesdolo della capitale Della cultura 2024 E tutti i territori limitrofi E domani E domani 11 agosto In scena sarà la nuova produzione Al teatro sicuramente più leggero Quello dell'arena BCC di Fano Che propone domani La comicità di Uccio De Santis E lunedì lo show Della youtuber Lucilla Organizzeremo ben tre eventi E tre eventi che comunque sia Richiameranno un pubblico di varie età E di diversità Partiremo con l'11 agosto Con Uccio De Santis Il famoso comico barese Per poi andare al 14 agosto Con lo spettacolo per bambini Con la famosa youtuber Lucilla Per poi terminare il 17 agosto Con il musical The Greatest Musical Show Un musical che comunque si arrabbbero Chiude ben quattro musical all'interno Peter Pan, Pinocchio, Notre Dame E The Greatest Showman Uccio De Santis sarà il protagonista Della serata in programma L'11 agosto all'arena BCC di Fano Sì esatto Il famoso comico barese Approderà qua a Fano E col suo nuovo spettacolo Vi racconto il mio modù Che sarà un divertentissimo show Dove verranno coinvolte Anche le persone del pubblico Portate sul palco E comunque sia Verranno coinvolte Nei loro sketch Nei suoi sketch Con barzellette E comunque sia giochi È uno spettacolo per bambini Quello di Lucilla Ma in realtà anche per bambini cresciutelli Perché lei è talmente conosciuta Che crediamo che possa divertire tutti Ma sì Lei con la sua famosa astronave Arriverà qua a Fano All'arena BCC Per il suo bellissimo spettacolo Dedicato prevalentemente Come dicevi tu Ai più piccoli Dove cercherà di farli ballare Di farli divertire Con le sue canzoni È uno spettacolo bellissimo Dove ha riscosso successo In ogni dove E sicuramente lo farà anche qua a Fano E sempre a Fano Torna l'atteso appuntamento estivo Con Birra d'Augusto Vediamo il servizio Birra d'Augusto Quest'anno è arrivata La sua tredicesima edizione Si svolgerà Si svolgerà nei giardini Biancheria a Morelli E il parcheggio adiacente Di via 24 Maggio a Fano Le date sono dal 12 al 16 agosto Avremo 11 birrifici 8 dei quali Per promuovere il nostro territorio Sono tutti marchigiani 3 invece vengono da fuori regione Iniziamo da quelli territoriali Abbiamo il birrificio Collesi Birrificio Ialchis 6100 Birrificio dei Castelli Birrificio del Catria L'Oltremondo Il birrificio Renton E Angeloni In più da fuori regione Abbiamo il birrificio della Granda La Brassa e Via Alpina E i fratelli Trami Abbiamo pensato ad un programma generale Per tutte e cinque le giornate Dando un nome ad ogni giornata Quest'anno partiremo il 12 agosto Il sabato La giornata iniziale sarà quella Con la giornata del Mastro Birraio Dove affronteremo una tavola rotonda Tra i vari produttori di birra artigianali Presente al nostro evento Il 13 agosto invece sarà la giornata Birra e Brodetto Lunedì 14 invece presentiamo La giornata Luppolandia Dove in collaborazione con La ludoteca Scatolarci E la ludoteca di Pesaro Pesaro in gioco Andremo a presentare dei giochi da tavolo E un torneo di Bang In modo da poter condividere la giornata Con tutti i ragazzi e non Il giorno 15 invece sarà la giornata Del Birra Agosto Summer Fest Sarà una giornata interamente dedicata alla musica Il 16 invece è la serata di chiusura Dove avremo comunque sia I ringraziamenti e tutto Sarà la giornata della birra in rosa Denominata così perché? Perché sarà una giornata di compagnia Tutta dedicata al mondo femminile In rapporto alla birra artigianale La musica di quest'anno abbiamo riempito il palco con 12 band Anche su 5 giorni Quindi sono tante E abbiamo dato Abbiamo cercato di trovare più offerta musicale possibile Partiamo con sabato 12 Alle ore 19.30 Con un duo Che fanno musica blues E sono i Barre Laus Per arrivare ai 21.30 Con i Radio Com Che sono la Vasco Rossi Tribute Band La domenica 13 agosto Avremo un DJ set Sempre a partire dalle ore 19.30 E poi alle 21.30 I Catch the Giant Che è un gruppo Che noi ormai abbiamo adottato Per la nostra manifestazione Perché sono con noi sin dall'inizio Per quanto riguarda il 14 agosto Avremo due bei gruppi Che sono i The Python Che faranno musica agli 80 E i Rusty Finger Che fanno vintage rock Per arrivare al 15 agosto Quindi il nostro birra agosto Parlavamo di musica E abbiamo interamente Dedicato alla giornata alla musica Dando 4 gruppi Quindi partiremo alle ore 18 Con il DJ set di DJ Wolf Alle 19.45 avremo i The Glam Che fanno rock Vorrei passare direttamente alle 22.45 Con i Frutti Freschi Che è un gruppo marchigiano Ed è un gruppo che farà una spremuta Di musica italiana Ho voluto saltare le 21.15 Perché abbiamo una bella novità Di cui siamo orgogliosi La cantautrice fanese e pesarese Raffi farà l'unica data fanese E marchigiana a birra d'augusto Dopo aver calcato e aperto I concerti di Vasco Rossi In tutti gli stadi Ha deciso insieme al suo manager Roberto Casini Di venire a birra d'augusto A fare la presentazione del suo disco Che sta uscendo Si chiama Fashion Rock Live Insieme alla sua band XX Energy Dopodiché andiamo all'ultima giornata Dove avevamo detto che È la nostra birra in rosa Perché anche qui abbiamo scelto E ho optato per due gruppi totalmente femminili E sono Ludo e Greta Che è un duo acustico Per poi concludere con le Rimmel Che fanno anni 60 E anche questo è un gruppo totalmente femminile Siamo giunti in conclusione anche questa sera Dell'edizione di Rossini News Prima di congedarci Vediamo insieme il palinsesto Della nostra emittente Questa sera alle 21.20 Limitless Peladalando oltre se stessi La presentazione del docufilm Su Zico Pieri Avvenuta il 7 agosto alle ore 21 Una proiezione presso il mercato coperto Di Piazza Garibaldi a Cagli L'appuntamento con l'informazione Come sempre Con la diretta anche Facebook Della nostra rassegna stampa Le dica la quotidiana Buongiorno Rosini Lo ricordo Domattina alle 7.20 Puntualissimi Con le repliche alle 8.20 12.20 14.20 E 18.20 Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del meteo E augurarvi una bellissima serata Una bellissima nottata sotto le stelle cadenti Con la notte delle candele E ovviamente con le celebrazioni di San Lorenzo Buona serata a tutti Buona serata a tutti